Le due grandi passioni di Ercole e Silva, i libri e la natura, il giardino, di fatto descrivono benissimo la sua grande personalità, la sua personalità di intellettuale di alto livello nella Lombardia, nella Milano di fine Settecento e la sua educazione anche, la sua educazione familiare in primo luogo, quella acquisita attraverso lo zio donato, già personalità importante a Milano, intellettuale austriacante all'epoca degli austriaci, del governo austriaco che già si interessava alle scienze naturali, lo zio donato, le collezionava specie rare ma è anche dopo soprattutto la morte dello zio che Ercole, dopo anche la sua educazione nei migliori collegi naturalmente dell'epoca, intraprende un viaggio europeo che diventa attraverso le capitali appunto dell'Europa, diventa un viaggio di formazione, un viaggio culturale, anche questo tipico naturalmente della buona aristocrazia illuminata di fine secolo e incrementerà proprio attraverso la sua curiosità che lo muove, che lo spinge alla lettura, all'acquisto di libri, incrementerà già il nucleo che lo zio donato aveva costituito della biblioteca, questo naturalmente quando la erediterà dopo la morte di donato nel 1779. Ercole e Silva però è anche scrittore, anche autore di trattati sulle scienze naturali, piccoli opuscoli, secondari naturalmente a quello che è la sua più grande opera, il trattato dell'arte dei giardini inglesi che esce nel 1801 e che apre e porta un po' la grande teoria del giardino romantico, del giardino all'inglese nella Lombardia appunto di fine Settecento e dei primi anni dell'Ottocento. Ma è anche autore di piccoli opuscoli che comunque si occupano dell'importanza delle piante per adornare la città, la città che sia col governo austriaco sia dopo con quello napoleonico naturalmente la città di Milano andava incontro anche a grandi cambiamenti urbanistici, quindi l'attenzione alle piante più adatte ad adornare i viali, che è appunto il titolo di un suo opuscolo. E al tempo stesso si adoperava finché arrivassero in questo territorio anche delle piante che non appartenevano, piante forestiere come le chiamavano all'epoca, quindi distribuendo gratuitamente proprio dei semi perché venissero avviate queste colture decorative e anche funzionali appunto al benessere, allo star bene nelle città comunque. E autore anche poi di, sempre riferendoci anche a questa cultura europea, autore anche di piccole opere che riflettono sulla società, sui governi, per esempio in seguito proprio al suo viaggio londinese che fa negli anni 80 sostanzialmente del Settecento, che lo porta a Londra, in seguito scriverà un piccolo libricino sulla Costituzione inglese, sul testo della Costituzione inglese, che poi pubblicherà qualche decennio dopo quando il governo austriaco, anzi quando il governo napoleonico sta scricchiolando, si sta sgretolando nel 1814, pubblica non a caso questa riflessione su un tema molto importante, quello del governo, quello della Costituzione. E riflette in primo luogo soprattutto sull'importanza della libertà pubblica e della libertà personale in un territorio come quello anglosassone, intanto apprezzando il grande bilanciamento dei poteri tra il Parlamento inglese e la Corona. E poi riflette anche appunto sulla libertà personale nella cultura anglosassone, pur prendendo le distanze da quello che è la struttura giudiziaria inglese, e naturalmente lui era cresciuto nella Milano di Cesare Beccaria, l'autore dell'opera dei delitti e delle pene naturalmente non può che riflettere prendendo le distanze da quel sistema giuridico anglosassone che portava all'impiccagione anche per piccoli furti i suoi cittadini e concludeva dicendo che il miglior codice penale per governare una società è quello di prevenire i crimini, quindi di costituire una società equa e che portava i suoi cittadini a non commettere crimini sostanzialmente. Ma queste sono anche di fatto delle piccole operette, dei trattatelli, delle dissertazioni come venivano chiamate all'epoca, alle quali si accompagna però anche un grandissimo interesse naturalmente per l'arte, per l'arte, per le antichità, per l'archeologia, diciamo l'antiquaria come la chiamavano all'epoca, e quindi scrive anche su questioni di battute di archeologia in quegli anni, sul finire del Settecento, nei primi anni dell'Ottocento, come per esempio la datazione delle colonne di San Lorenzo a Milano e il suo piccolo puscolo dedicato alla questione della datazione e quindi all'attribuzione al periodo romano delle colonne di San Lorenzo di Milano, diventa anche questa una lettura che è un punto di riferimento per gli studiosi, per gli studiosi di antichità e per gli storici dell'arte di quell'epoca. Un'altra operetta, diciamo così, è un elogio, è l'elogio all'architetto Pier Marini e questo è molto significativo perché naturalmente ci dà il rapporto vivo che Ercole e Silva aveva con i suoi contemporanei, con i grandissimi artisti e con gli architetti, che stavano costruendo la bellezza di Monza, di Milano in quegli anni e Pier Marini naturalmente era l'architetto del Teatro della Scala e merita anche di essere ricordato il coinvolgimento ad altissimo livello che Ercole e Silva, che peraltro scrisse anche due commedie, il grandissimo coinvolgimento che Ercole e Silva ebbe con il Teatro della Scala, quindi una posizione proprio anche direttiva per quasi dieci anni che fece sì che Ercole potesse anche accedere a quella cultura artistica, a quelle maestranze, a quegli scenografi, a quei decoratori, ornatisti che lavoravano in città e per le opere del Teatro della Scala e se ne potesse servire, per che cosa? Per il riallestimento, per la, come possiamo dire, per il decoro nuovo che vuole dare proprio alla sua villa, quella villa i cui cicli decorative hanno stati inizialmente naturalmente avviati dallo zio Donato. E sono queste personalità di artisti molto spesso legati proprio all'Accademia di Brera, quindi allievi dell'Accademia di Brera, anche giovani in erba, che Ercole e Silva porta qui, porta in villa, porta Villa Silva e dove anche lì diventa committente, diciamo, per questi artisti di dipinti, di pitture, che colleziona. È sostanzialmente un grande collezionista. La parola collezione, l'idea della collezione di beni artistici, di beni archeologici, di una collezione all'aperto, come può essere visto in fondo il suo parco, con tutte queste varietà appunto di piante, l'idea della collezione è veramente fortissima in Ercole, ma non solo come uno stato simbolo, un senso appunto di rispecchiamento di un potere economico, no, ma proprio come un rispecchiamento di una cultura così sfaccettata appunto, rivolta verso le scienze naturali, rivolta verso le arti e rivolta al collezionare anche libri appunto. E quando rimette ordine a queste sue collezioni, negli anni in cui si ritira in questo luogo appunto, in questo spazio meraviglioso della villa e del parco, riordina queste grandi raccolte i libri e ne pubblica il catalogo perché vuole far conoscere la sua biblioteca che diventa anche fonte di, come possiamo dire, di invidia, di competizione tra gli intellettuali dell'epoca che parlano della biblioteca di Cinisello come appunto un tesoro di cinquecentine di libri preziosi anche antichissimi, quindi riordina la biblioteca e ne pubblica il catalogo, vuole stendere lui per primo, scrivere lui stesso la descrizione della sua villa che pubblica, anche se anonima, nel 1811, ma di fatto la scrive lui, quindi vuole raccontare tutti gli apparati decorativi della villa e rielabora di nuovo e per pubblicarlo nel 1813 proprio quel trattato dell'arte dei giardini inglesi che lo aveva reso così famoso a partire dal 1801, dalla sua prima edizione. Quindi questi sono i suoi grandi interessi che fanno anche sì che quando si stendono, quando si iscrivono gli statuti dell'Accademia di Brera proprio appunto a Milano tra il 1801 e il 1803, il suo nome compaia tra quel corpo non accademico, perché certo non insegnava l'Accademia di Brera, ma quel corpo di soci onorari, di personalità importanti del mondo intellettuale milanese, ma lombardo anche, a cui l'Accademia poteva fare riferimento nelle riunioni appunto della nascente istituzione così importante per l'educazione artistica. Quindi tutto questo si riflette in una decorazione di una villa strepitosa, aggiornata, una villa dove venivano ricevuti personaggi della migliore aristocrazia europea, regnanti, artisti e un parco che era naturalmente anche questo meta di una visita e che meritava appunto di essere dedicata anche soltanto alle bellezze del parco. Alle bellezze del parco naturalistiche naturalmente di questo giardino all'inglese, ma anche di tutte quelle anticalie, antichità che lui aveva sparso all'interno del parco, cippi, epigrafi, tutti pezzi antichi che appunto nel gusto del giardino romantico, del giardino all'inglese, rientravano pienamente di cui lui si vantava appunto di aver arricchito questo complesso organismo vivente sostanzialmente, come è il parco stesso. E negli ultimi anni della sua vita, come vi stavo raccontando, si dedica alla sistemazione di queste collezioni e in fondo realizza, occupandosi di libri, occupandosi di botanica, di manutenzione continua, attentissima verso il giardino, realizza in fondo quello che scriveva Cicerone nelle sue lettere familiari, di cui naturalmente anche Ercole aveva un'edizione nella sua biblioteca, quello appunto che diceva Cicerone, cioè se hai una biblioteca con un giardino non avrai bisogno di altro nella vita e questo è un po' la sintesi della sua esistenza così colta e così dedicata a questi aspetti variegati e assolutamente eruditi anche per un uomo di quel tempo.